Sulla nostra regione condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso sul settore orientale lungo la fascia costiera, mentre annuvolamenti interesseranno la Marsica e l'Aquilano in ulteriore intensificazione con possibilità di precipitazione. Nuvolosità in aumento anche sul settore orientale, nella giornata di domani assisteremo ad un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche con precipitazioni in intensificazione. Temperature stazionari o in lieve diminuzione nei valori minimi, ma la tendenza è verso un graduale lieve aumento, sempre nei valori minimi, specie nella giornata di domani. Non si esclude un temporaneo aumento anche sensibile sul settore orientale della nostra regione. Venti deboli nei quadranti sud-occidentali con possibili rinforzi sulle zone montuose e localmente nelle principali valli del versante orientale. Probabile temporaneo garbino sul settore orientale. Mare quasi calmo o poco mosso.